Tutto pronto si parte con il secondo tempo Mauro Vediamo se crossa Intervento nel difensore che spazza Cross in mezzo Cross che si perde Daniela Sabatino Recupera il pallone con un intervento facile Occhio al pressing Possono ripartire dopo il recupero del pallone Ci sono metri a disposizione Cerca la rete Manca l'occasione per chiudere la gara Poteva essere la rete della sicurezza Buona l'idea qui Spazzano senza problemi Mauro Palla schizza via dopo il contrasto Distinto il difensore Spazza via Mauro A metri per correre sulla corsia Palla messa dentro Grande intervento del portiere Buono l'intervento del difensore che spazza via Cernoia Cernoia Mauro Cercano spazi Contrasto rubido Vigoroso Ottimo il recupero Passaggio non esattamente perfetto Ecco il tiro Manca completamente lo specchio della porta Conclusione alta Irene Paredes Irene Paredes Alexia Leila Virginia Virginia Torresiglia Ermoso Linari Palla che rotola via dopo un buon intervento Troppo la porta per una questione di centimetri Decisivo qui l'intervento del difensore che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete Bartoli Linari Passaggio intercettato Pallone in out rimessa per la Spagna Pallone in out rimessa per la spagna Amanda San Pedro Ci sarà il tiro della baglierina per la spagnola Alce l'angolo battuto Palla in mezzo Buono l'anticipo del difensore Può correre lungo la fascia Potrebbe crossare Leila Restituisce bene il pallone Manca ancora un quarto d'ora alla fine Grande tackle difensivo Bel passaggio Irene Paredes Amanda San Pedro Alexia Leila Perdono palla L'azione sembrava interessante All'interessante Dello spazio Tacco che svanisce Alexia Irene Paredes Marta Torrejone Cernoia Cernoia Mauro Pallone profondo Pericoloso Una tracestita male Amanda San Pedro Mancherò Mancherò cinque minuti alla fine della partita Girelli Spazio per le traversone C'è il triangolo La difesa alla meglio E allontana il pallone Occhio alla botta E c'è la presa sicura Del portiere Leila Andrea Pereira Quarto uomo Esibisce il tabellone Due minuti di recupero Sta per arrivare Il momento del cambio Amanda San Pedro Andrea Pereira Irene Paredes Sono momenti meravigliosi Stefano Che non dimenticheranno mai Ce l'hanno fatta Hanno vinto contro tutto e tutti E non c'è sensazione più bella Qui a Luigi Giocare bene E vincere le partite che contano E finalmente possono lasciarsi andare E festeggiare la Coppa appena vinta Un traguardo importante E meritato per loro Ci hanno creduto fin dall'inizio Complimenti veri Sinceri Sono attimi indescrivibili Per chi ha scelto di fare questo spot La propria professione Ti ripagano Di tutti i sacrifici fatti Un successo fantastico Cercato Voluto con tutte le forze Meritano Di goderselo Fino in fondo Per chi ha scelto di farlo E'errata per chi ha scelto di farlo Per chi ha scelto di farlo Grazie a tutti. Grazie a tutti.